Nel 1917, un evento senza precedenti avrebbe scosso le fondamenta della fede e della percezione umana in una piccola città del Portogallo chiamata Fatima. Tre giovani pastori diventano protagonisti di una storia che trascenderà le loro vite, segnando un prima e un dopo nella storia delle apparizioni mariane. La Vergine Maria scelse questo luogo pacifico per rivelare ai bambini messaggi contenenti non solo avvertimenti e richieste divine, ma anche profezie che avrebbero suscitato dibattiti e speculazioni per decenni. Sullo sfondo di un'Europa consumata dalla Prima Guerra Mondiale, l'apparizione prometteva la pace e avvertiva di futuri cataclismi se il mondo non fosse tornato sulla via della fede. Attraverso gli occhi innocenti di Lucia, Giacinta e Francesco abbiamo preso coscienza di una chiamata alla preghiera, in particolare alla preghiera del Rosario, come antidoto alle tragedie mondane e spirituali. Tuttavia fu il contenuto del noto segreto di Fatima, in particolare la sua terza parte, a generare un manto di mistero e fascino che perdura ancora oggi. Il messaggio, diviso in tre parti, verrà rivelato nel corso degli anni, con la terza parte rivelata dal Vaticano nel 2000. Interpretata ufficialmente come una premonizione dell'attentato contro San Giovanni Paolo II, questa rivelazione non ha cessato di sollevare interrogativi sulla sua vera natura e completezza. Molti credenti e studiosi suggeriscono che il nocciolo del messaggio non sia stato ancora del tutto decifrato o svelato, sollevando la possibilità di una crisi più profonda di fede e di apostasia all'interno della Chiesa. L'essenza di Fatima, al di là delle controversie, è un vibrante richiamo all'importanza della conversione, preghiera e penitenza. La Vergine non solo è venuta ad avvertirci delle conseguenze terrene delle nostre deviazioni, ma, con materna sollecitudine, ci ha offerto una via di speranza e di salvezza. Nel tessuto intrecciato della fede e della storia umana, la figura della Vergine Maria emerge in capitoli cruciali, portando fari di avvertimento e guida per navigare nei mari turbolenti del destino spirituale e terreno. Queste apparizioni mariane, che segnano ciascuna una svolta, diventano bastioni di una chiamata divina, urgente e compassionevole, verso la conversione del cuore in preparazione alle sfide definitive dell'esistenza. All'interno di questo vasto arazzo celeste, l'insistenza sulla misericordia di Dio risalta come tema ricorrente e confortante. Attraverso la voce di Maria, il cielo estende un'offerta di salvezza, un'ancora di speranza in mezzo alle tempeste che minacciano l'umanità. Il messaggio che trascende il tempo e lo spazio è inconfondibile. Una profonda trasformazione dell'essere è essenziale per resistere alle tempeste in arrivo, tempeste che minacciano di scuotere non solo la terra, ma anche le anime. Mons, Mark Eilett, riflettendo su questo momento critico per l'umanità e sul ruolo mediatore di Maria, ci ricorda che le profezie bibliche e le visioni mariane sono echi della stessa chiamata alla vigilanza spirituale. Siamo avvertiti di un tempo di disorientamento, dove la figura dell'anticristo e l'ombra dell'apostasia incombono sull'orizzonte della Chiesa. Tuttavia, questi presagi apocalittici non sono semplici frasi di disperazione, ma trombe che invitano alla preghiera fervente, alla penitenza e al risveglio della fede nella promessa divina. Questo scenario, vasto nella sua complessità quanto nella sua bellezza, ci invita non solo a riflettere e a prepararci spiritualmente, ma anche ad agire. Agisci iscrivendoti a questo canale e unendoti al nostro gruppo Telegram, dove la comunità di fedeli e ricercatori si riunisce per condividere, imparare e crescere insieme nella fede. Con solo 20 posti disponibili, è un'opportunità unica per approfondire queste rivelazioni e riunirsi in attesa attiva di un mondo trasformato dalla luce. Nel cuore della Bosnia-Herzegovina, la piccola cittadina di Meggiugorie diventa teatro di un fenomeno spirituale che cattura l'attenzione e il cuore dei credenti di tutto il mondo. La Vergine Maria, attraverso le sue apparizioni, recapita messaggi criptici a diversi veggenti avvolti nel mistero dei segreti, messaggi che risuonano con un eco di urgenza e di speranza. Queste rivelazioni, anticipando eventi di grande significato, cercano di mobilitare l'umanità verso una profonda riflessione e una conversione spirituale, sottolineando la preghiera, il digiuno e la vita, secondo il Vangelo, come pilastri della redenzione. La rivelazione che le preghiere e i digiuni di fedeli in tutto il mondo sono riusciti a cancellare una delle punizioni annunciate dimostra l'immenso potere della fede e dell'azione collettiva nella direzione del destino umano. Questo fenomeno sottolinea una verità fondamentale. L'intervento e la misericordia divina sono a disposizione di tutti, purché vi sia un autentico ritorno all'essenza del messaggio evangelico e una vita dedicata al servizio di Dio e del prossimo. L'insistenza sull'invocazione dello Spirito Santo e la necessità di un'esistenza più semplice, liberato dai legami materiali, risuona come una chiamata a ripensare le nostre priorità e trovare nella semplicità un percorso verso la pace interiore e l'armonia con il Divino. I messaggi di Medjugorje, con il loro appello a non poter servire due padroni, ci spingono a scegliere la via della luce, verità e vita in pienezza, ricordandoci che la vera felicità e pace si trovano nell'abbandono a uno scopo più grande. Di fronte a questo panorama di riflessione e di speranza si pone per ciascuno di noi una domanda vitale. Come possiamo, nella nostra vita quotidiana, incorporare questi insegnamenti di preghiera, digiuno e semplicità per avvicinarci a Dio e contribuire a un mondo più pacifico e spirituale? Ti invitiamo a condividere i tuoi pensieri e le tue esperienze nei commenti. Verranno messe in evidenza le migliori risposte, creando uno spazio di dialogo e di arricchimento reciproco nella nostra comunità. Grazie per esserti unito a noi in questo viaggio di riflessione e speranza. Prima di salutarvi, non voglio perdere l'occasione di consigliarvi un altro fantastico video che abbiamo per voi. Ciò che scoprirai in esso ti lascerà stupito, te lo assicuro. Non perdere l'occasione di continuare a esplorare misteri e rivelazioni che possono trasformare la tua prospettiva. Clicca subito sul video sullo schermo e immergiti in un'altra storia affascinante. Ci vediamo lì per continuare a condividere contenuti più illuminanti.